Ciao ragazze e ragazzi, oggi vi voglio far vedere due prodotti nuovi che mi sono arrivati da Amazon e li ha sponsorizzati Giulia Cova ed è questo prodotto qua delle mani per l'invecchiamento eccetera che lo sta utilizzando anche mia figlia, si trova benissimo, è arrivato l'altro ieri questo prodotto, la sua pompetta eccetera, la trovate su Amazon e poi io ho preso anche questa sempre da Giulia Cova, questa qui, Mimim, che praticamente è per il décolleté e il collo, l'ho provata per la prima volta ieri, vediamo, si saprò dire, sempre su Amazon, a un prezzo stracciato, poco e niente, allora vediamo, io ho voluto mettere un po' di musichina, vediamo se ne trovo un'altra più carina, vediamo questa, se ce la posso far ecco qua questa mi piace ed è quella che YouTube si offre per il tutorial poi volevo farvi vedere questi occhiali da sole, un po' bizzarri sul sito di Zara lo so che sono pazza ma a me piace sui 19 euro mi trovate con la sua bustina Zara ora passiamo al Makeup Occhi mi è arrivata anche questa non so se è di Giulia Cova o di qualcun'altra che me l'ha consigliata, non la ricordo è sui T-Min allora ci sono degli shimmer e degli opachi ma questo qua è tipo i glitter di Nabla ho sbocciato ieri sera questa è arrivata ieri allora procediamo con un colore così, vediamo e poi ho preso questa sperando che abbia lo specchio perché se no sono senza c'è la revolution agli specchi proseguo con questi due a sfumare molto carino costa pochissimo mi sembra i prodotti low cost di Giulia Cova se non ballerata quello più scuro grazie a tutti La persona che mi ha detto che sono tutta ormai cadente da talità, che posso evitare di truccarmi, quando quella persona non ha neanche esposto il suo viso. Grazie. Io mi continuo a truccare come voglio. Ora, chiuso a parentesi, riprendo un pochino quello scuro. Sono molto attratta da questa palette. Magari applico un pochino di questo. E' troppo così. Anche l'altra, tutti due molto iscriventi. Questa ovviamente di più. Si sa. Era evolution. Molto bene. Ora applico questo. Vuoi addirittura... No, voglio applicare proprio questo. Il super glitter. Sono di mostro. Vedete? Aspettate. Acqua di grossi come Nabla. Proviamo. Che meraviglia. È burroso, quindi non serve. Non so se notate. È burrosa. Apposta. Quindi, le ho applico ancora un pochino. Appongo un mix. Qui. Allora. 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 per lo stesso mix e applico glitter questo modo sono una cosa fenomenale bellissima questa palette me la consiglio veramente vedete anche per gli animali hanno pensato in un sweet mint bellissimo perché su amazon poi certo che questo è molto bello prenderei un attimo questo non è super sto guardando ammirando il colore e ancora qui non si vedono bene come dal vivo stupenda che è questa pazzesca matita nera peluco Grazie a tutti. 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 Oggi è quello più scuro, sempre questo era quello di ieri, con questa matita. Devo applicare un pochino di questo illuminante che mi ha regalato mia figlia. Ok? Ciao.